ciao a tutti ragazzi oggi faremo una partita di hit master 3d non so che sembra strano ma lo tengo eppure aspettate un minuto ecco tornati eccoci qua ok ragazzi hit master funziona così dobbiamo lanciare il nostro oggetto e fare fuori tutti quelli che incontriamo eccolo qua questo è hit master per esempio dobbiamo prendere il baule e fare esplodere letteralmente tutti quanti l'alieno è quello che avrà più vite infatti dobbiamo metterli per forza a tre pochi alla testa e poi si deve premere il bottone verde per farli iniziare tutti via è un minuto si deve rifare boom e adesso andiamo a conquistare il razzo perfetto e abbiamo questo poi dobbiamo cercare di vincere e non prendere lui che è il nostro amico che non dobbiamo prendere a chi spazio è il sede che è il nostro amico che è l'inizio vincere il nostro amico che è il nostro amico e tutto ciò e l'altro è di essere sperito di segnare la metà la notte e il nostro amico e il nostro amico è ecco livello 36 ma l'ho ucciso abbiamo sempre un problema con la musica scusate ragazze che qui in vacanza la connessione non va molto bene ma cosa succede ragazzi signor metti bravo ecco io ho messo tanto a questo che non non ma non 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 Aspetta, cosa sta succedendo? Cosa? Stoppa forza! Stoppa! Stoppa! Eccolo qua. Ecco fatto. La balibò. Pirapalombò. Come sta per arrivare un volum pochino? Da Isabella, a balibò la voluta. Ma tu! Basta! Non c'è! E' più bella così! Stoppa! Mi hai visto che non c'è! Stoppa! 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 No! Non c'è! Non ho più musica te con le scarico! E vabbè che me ne frega a me! Continuiamo lo stesso! Ok. da scusate signori oh basta la buba di budo ragazzi questa è nuovissima ma lo sai che hai stoppato il video? no, non l'avevo stoppato Tidabu, tisamu, avua, vi, avua, vi, avua, vi, avua, vi, avua, vi, vi volete Master apri e si partite let's go let's go let's go let's go let's go let's go vorrei ora prendere una bella sha Mattia ti ci mi lascia tu mi lascia il video let's go let's go me l'hai ucciso Mattia e basta hai stoppato il video tu no sta continuando eh 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 hai un gioco disney tu con la disney ahi è sempre spavoso è sempre ti via nooo è polcatrosca non è polcatrosca polca bufala bufala ah basta via esci voglio togliere tutto via 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 che basta non è che ci sta legge come ragazza che lo tolgo lo tolgo da la perchè è una perchè è una merca è una merca è una merca in in a il il stavo nel culo guardate che colpo guardate alla mamma s nooo c'è una ragazza per il culo di mattia però è vero sul manicolo devo metterlo col ginocolo ma cosa la la volatemi nel culo della merca io mi ha ringrazio ringrazio l'acca con la c a mercato non c'è non c'è oddio non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è niente ho beccato il palo e non c'è perché non c'è non c'è non c'è la fiamma che vi ha già fatto un sacco ora l'arbiore attenzione attenzione volate via siate liberi uccellini siiii siiii ho distruggito il raggio quasi nessuno torna a casa a parte io che sono un supereroe che posso volare lo spazio di tempo e posso vedere anche la quartiere di le autocorsi non c'è ma non è la realtà ragazzi ultimo livello e poi bonus e sorpresa cosa mi ha detto via master adesso ragazzi speriamo tutti il gioco che prendo fai l'imprasce il coso e il pistacco ma va bene ma va bene ma va bene face di games va bene ragazzi ho deciso il livello e ultimo livello poi bonus e sorpresa si chiama ma te ti hanno mai cancellato il video e che si mi fai la la le più nel culo di nel culo del tucano vattene a morire nel culo del tucano un aiuto si muove e a tenere il pistone da lontano nel culo oh e te in mano e questo e guarda ok ragazzi che bello finito faccio ora come vi avevo promesso bonus a sorpresa youtube app qui c'è un bonus mettiamo un massimo di lungo perché non si può sentire che sono un po' ridile tu ancora mi sei sspanna infatti ci sono il bonus il finale sarò un bonus che ne dovrò al volo il bonus sarà vendito carica il pub youtube bubba 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 no c'è i i c'est che il va il che posso come è l'album come si è un digasso se tu mi ragazzi va a stare l'icotto per amici la mufia contrasta dalla luce crescita ed è girato verso 618 ciao